Prima di affrontare questo quinto canto del purgatorio, io direi uno tra i più belli dove viene menzionato il casentino, voglio dare qualche informazione sulle attività della mia associazione e del comitato che abbiamo sviluppato. Magari qualcuno è già al corrente, però lo rammento. Abbiamo creato un comitato per la promozione della valle del casentino a patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO. Ci sono varie persone che spaziano in diversi tipi di lavoro, scrittori, c'è la stessa Marta, la proprietà del castello. Il fine è quello di cercare di fare in modo che la valle del casentino venga valorizzata da parte dell'UNESCO. Però chiaramente noi andiamo a cercare un soggetto esterno che ci darebbe questo grande riconoscimento, però prima, secondo me, dovremmo fare un percorso noi tutti casentinesi o amanti del casentino e ricordarci da dove veniamo e chi siamo. E questo viene con la conoscenza appunto della nostra terra. Io ora vi faccio un breve elenco di quelle che sono le bellezze a livello artistico, paesaggistico, naturalistico qui in casentino per avere un'idea che effettivamente in un momento in cui dall'era industriale si sta passando all'era dell'informazione, all'era della conoscenza, tantissime industrie dall'Europa stanno andando a destra, la vera rivoluzione industriale adesso è là e quindi a noi qua ci rimane le cose basate al territorio, basate sulla persona, ingegno, talento, disegno, saper raccontare le cose, saper star con la gente, saper creare un sistema basato su valori differenti a quelli che ci hanno portato alla crisi odierna. Sappiamo che la crisi viene dalla parola greca proprio crisis che vuol dire cambiamento quindi in un momento di cambiamento così veloce noi dobbiamo ritornare alle radici della nostra terra e cercare di comunicarla nella forma migliore a tutti coloro che verranno a visitarla.